Si affaccia al balcone e vede un uomo scalare il muro dell'appartamento adiacente. Non c'erano dubbi che si stava per consumare l'ennesimo furto in appartamento e per questo decide di allertare immediatamente le forze dell'ordine. E' accaduto la notte tra venerdì e sabato a Vittoria. Grazie alla segnalazione del cittadino, le forze di polizia di Vittoria e Comiso sono riuscite a bloccare due topi d'appartamento colti sul fatto un tunisino di 34 anni e un vittoriese di 26 che adesso dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. Intorno alla mezzanotte al commissariato di Vittoria era infatti pervenuta una segnalazione che riferiva di due persone che dopo essersi arrampicate avevano raggiunto il balcone di un'abitazione e stavano per forzare l'infisso per accedere all'interno dell'immobile. Gli equipaggi arrivati sul posto hanno quindi circondato lo stabile e sorpreso il vittoriese, appostato per strada di fronte all'abitazione che faceva da palo al suo complice. Vistosi di scoperto l'uomo, nonostante avesse opposto resistenza per cercare di scappare, è stato prontamente bloccato e posto in sicurezza all'interno dell'autovettura di servizio. In quel frangente il rumore di veti infranti ha consentito agli operatori di individuare l'appartamento presso di mira dal complice che è stato sorpreso all'interno dell'abitazione e bloccato impedendogli la fuga. Alla luce dei fatti acclarati i due giovani ladri sono stati arrestati e su disposizione dell'autorità giudiziaria il vittoriese posto ai domiciliari mentre il tunisino condotto in carcere.